musica 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 senti io voglio sta katana vai hai intuito Aki io e te vai secondo te dov'è però attenzione cibo ce l'hai si allora io ho un po' di snack vediamo se ce l'ho ancora 13 snack ce l'ho io io prendo altri snack va bene ma in caso prendiamo il cibo poi ah va bene tu segui me ovviamente ok dove stavo andando lo so dov'è che non siamo mai stati di qua andiamo verso di qua un'idea è andare di giorno o no si ma infatti io avevo un sfiga vale sempre notte quando esploriamo porco il cazzo madonna non mi piace questa zona vale ho paura faccio una caverna oh caverna nuova nuova ok attenzione scendo e creo un fuoco così almeno siamo accampati ci siamo mai stati qua no fermo fammi guardare la mappa due disegni sento un boss dimmi è pieno di indigeni stai fermo e dobbiamo ammazzarli ammazzati aiutami muori bastardo uno l'ammazzato oddio c'è il boss brucialo 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 gioco di squadra raki dietro grande 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 bene hai mangiato la carne si l'ho mangiato l'ho mangiato andiamo di qua oddio stavo per prendere fuoco oh mio dio che cazzo ma qua che cazzo c'è un rifugio ma che ma quanti soldi c'è la catana no no raga vale io sono andato a casissimo a chi ruba ruba soldi siamo ricchi ho preso la prima caverna che mi avrà venuta in mezzo ma tu stai scherzato non è possibile non è possibile madonna vale guardami porco il cane arma con veleno arma con veleno conquistariamo i boss ma la cosa bella è che l'abbiamo trovata casissimo guarda 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 esploreremo di la addocchiamo subito le cose e te ma abbiamo un culo della madonna porco il pollo sai perchè questo perchè ce lo siamo meritati da tutto il casino dell'alto madonna l'ho detto che mi devo adesso abbiamo un'arma decente ma di brutto altro che ascia 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 moderna ma vaffanculo ma poi che ci fa una catana qua sotto terra non lo spieghi stiamo scendendo o salendo salendo ma che cazzo ma dove stiamo andando sarà disorientante sta caverna più delle altre ci sto capendo un cazzo l'h l'h per capelli altra bravo prendi eh oh snack ottimo destra o sinistra qua segui me qua 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 secondo me mi piace di più anche a me oh porto doppio ma piano 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 sento un boss pure io mi hai bruciato mi hai bruciato scusa creta merda aia oddio ma lì vabbiale eh 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 aiutami muoio morto il boss brucia li vale così facciamo le ossa metti un fuoco ok non mi bastano le ossa ma hai messo tutti ci sia fate così poche ossa hanno dato uno ce n'era uno l'ho trovato no qua c'era un altro vale ecco perchè ah sono un coglione scusa con quello fatti l'armatura per te ho l'armatura in ossa anch'io andiamo oh mio dio no che io io me ne vado via no 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 per respirare fermo fammi tirare un flare c'è un tipo oh uuuuh tira 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 c'è un tipo muoio morto vedi perchè la catana è OP ma è una bestia non era l'ultima lo sapevo crocifissi vinix still missing vale ho trovato un giornale con aspetta munizioni hai trovato delle munizioni? ho trovato delle munizioni le ho prese pure allora non erano sassi oh metti la bomba metto la bomba finiamo di esplorare la zona qui aspetta è qua e poi mettiamo la bomba lì aspetta quanto cazzo è grosso questo posto vale ma è troppo strana poi delle munizioni in caverna ma che cazzo eppure io ho visto che è la motosega oh ma che cazzo ho trovato katana katana e motosega ma che cazzo di culo abbiamo ma poi sfermo ma per la katana ma io non sapevo nemmeno che esistesse una motosega ah c'è un ma ah che proviamola mi sono spaventato tantissimo vieni ma come godo più che altro sai perchè è forte? perchè ti tiene lontani non possono attaccarti tira da tutta la bomba va bene la dinamite è in basso ok la tiro io ho capito no non ce l'ho ah eccola no no voglio farlo io coso? dai dai accendila vai togiti ma coso? dove la tiri? lì la toh ah ok è dall'altra parte che dobbiamo mandare si tutto bugato sento bambini strisciare no eh si ci sono i bambini quindi questo lì è Virginia quanti bambini? ok tizi muori puoi morire? muori guardalo 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 ah se c'è una foto non è possibile c'è 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 la cosa della motosega ma dove cazzo siamo? ma dove cazzo siamo? ma dove cazzo siamo? non lo so è tutto stra qua si scende e là si va avanti Aki tutte e due dopo cosa hai trovato? c'è il registratore audio veramente mi stai narrando? no 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 è una cassetta mi stavo spaventando ma madonna ma è un'audio cassetta o una cassetta? apertura del mano fatta ma tu non hai la telecamera? no non ce l'ho allora aspetta che lo guardo ok vale ti descrivo il video vai dimmi allora ci sono questi scienziati attorno a un coso nero ok tipo fatto di ossidiana ma? e si apre c'ha gli spunzoni dentro basta finisce così cos'era? cos'era? ti ricordi quella parete dove ci sono i tizi pietrifregati che pregano? si è vero ecco quella croce non è una croce è quella cosa che non so cos'è però vale ma ti rendi conto di quante vie dobbiamo ancora vedere? mamma mia ma in tutto questo vale la kickard ma infatti dove cacchio è? un altro pastaggio qua davvero? si ma quante a chi? quante grosse sta caverna? no 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 vale sei un lavoro agile no no com'è possibile sta cosa scusa? non lo so torniamo indietro facciamo le altre vie che non abbiamo preso aspetta no 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 io non ci stavo qua eh mi rifiuto andiamo dentro ti guido io con la mappa ma cosa mi stai narrando? saliamo dal picchetto eeeh si ultima strada aiore come fate a non morire con tutti sti colpi di katana ma quanti erano 4 li abbiamo arati di brutto ci fogliamo l'armatura qua come si potenzia l'armatura Aki? devi fare più pezzi di armatura cioè ti metti tante osso attorno tu non vedi ma il mio personaggio lo vedi? si e non vedi che ha tante osso attorno 2 me ne son fatte io guardami guarda me vai andiamo non lo so adesso trovi un bazooka manca solo quello qua oh si sale qua picchetto si sale eh questa sale lunghi si esce si esce vuoi trovare vuoi andare a trovare sta cazzo di keycard? eh si cerchiamo altre caverne ok guarda ma siamo dall'altra parte che cazzo è quello? ma? chi cazzo sono quelli? ma? ma perchè c'hanno le luci? sono troppo stra... cioè ma stanno camminando nella costa? si deve correre no 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 calmi calmi ma chi cazzo sono? che sono altri player? leva l'accendino così non ti vedono io seguo te andiamo via vale andiamo via è qua ecco vai vedi che c'ha la doccia ammazzalo scappa si ma mi scogli attacchi ma intelligentissimo oh z è morto corri zi corri 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 tutti matti corri non so se è di qui la casa cioè io penso che sia qui oh si siamo a casa c'è l'aereo aereo meno male ma quanto godo e di giorno salvo anch'io oh muoio 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 goodbye goodbye morto come è morto? davvero